Master di Dara Naruto79 Salve a tutti ragazzi benvenuti a questo nuovo video io sono Naruto79 e lui è Firefox 320 Aio Tu siamo noi nell'evento arco questo qua è un altro helper guarda guarda che fine che gli ho fatto fare vedo vedo vediamo vediamo su questo terreno e vi metterò il litro in descrizione e... iniziamo iniziamo spadone dove sei tenuto ieri assi giusto salvate il culo e il soldato Ryan aio mers aio no ai hai? returns tata 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 rabbia per esempio ho preso ha preso a bocchino uauuuu preso adesso mi colleziono la tua testa aspetta prima prendo la tua testa ecco qua arabia un attimo quarto arco aspetta rimorre le frecce testa di assassini gs arabia saudita eccola qua la tua bella testina puoi dirvi ciao cioè ma io prendo sempre due archi non è che ne prendo uno al massimo perchè se sono sei il combattimento dura tanto ahiaiaia un attimo no la mia testa non c'ho le cucchia però ok vi farò un'altra arabia 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 no aspetta posso fare back back testo testo allora com'era non il 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 aspetta un attimo il 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 Tu sei tutto bello armato Lui c'è la spada di diamante Scusate nei rumori in sottofondo però No Prima ero rientrato Da vieni? Scusa un attimo l'interruzione Scusate Dove sei il pvp? Aspetta allora Si vabbè però tu c'è la spada in diamante Lo so e questo il bello Allora combattiamo? Si Parabia Ti ammazzo Un colpo al metto nazerati Ah no La gata primordiale Aia Merda merda Lasciate recuperarvi Io eh Arrabia Oddio massacro Si no vinto Oh sì E' un altro piccolo testi Testa di Kubland Testa no Testa di Firefox 320 Testa di Kubland Via Via Oddio sei qua Aspetta ti do L'armatura Ti do il casco Ah no Partiamo Mattimo Mamma mia Ho tre cuori Sì Io ne ho quattro Oh mio dio Mi sono sopra la torre se vuoi sapere Se vuoi sapere tanto Se vuoi sapere tanto Solo mi amamo Speri che ne sanno Sei pronto? Eh io sono pronto Oddio nooo Via Via Già fu partita Vieni 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 Dio Oh che cavolo vanno le mie prezzo Pazze 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 Con zio Ho un cuore con cuore Pietà Oh Corcom e' caduto da un posto e' morto stavo scendendo buttandogli non mi sono accorto di quanti tuoi avevo si ma il problema è che io dopo quando perdo dopo però se muoio per caso fammi riprendere la mia spada in diamante al massimo perchè la amo questa spada in diamante perchè come si chiama? perchè islamica arabia saudina arabia arabia non so se nato mi ossessionato un mio amico posti arabia 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 saudina il mio amico è già morto più o meno il video aspetta ma oddio chi è finta non va bene ahio arabia arabia ma quando lo metterà qua c'è quando sarà disponibile da vedere da visualizzare e' entro domani ok però domani quando riuscirò a mettermi in linea perchè ti chiamo se ci sei e' il video e' il video rimesso e tu mi dirai le proporzioni aspetta ti lascio prendere ti lascio prendere la roba eh la roba no ma che testa hai la mia ah pure prima eh vaffamolo aspetta 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 quando ti cido mi metto la tua testa tieni ce ne ho due intanto di mia terza aspetta allora dammi meno tempo di metterla eh dammi tempo e' studiare no guarda mi ha rubato la schiena ok vuoi 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 oddio oddio e' dove sei volato dove sei volato no 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 oh mio dio oh mio dio oh mio dio oh no 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 vai dietro alla lava che ero un poco una freccia infocata fermo vai a fare di te la la fermo il mani fermo che c'è un colpo di lavoro di una freccia in focata arabia ti è arrivato lento eh non la parma non la parma più inoltre grazie grazie un po' più pro il sito il aiutare il assassini assassini gs stato condannato a cadere da far s o o non non neanche una volta sono bravo i uniti di rischio per con la spada in diamante gli altri hanno spaventato sparati oddio ma sei qui oddio no non rubarmi le spade in diamante però cazzo aspetta ti faccio il tpa oddio ma sei qui ah no faccio il tpa tpa vai accetta mi riprende le mie spade le mie spadine in diamante si un attimo allora non fai prima cliccare si e poi clicchi su non ho capito niente non ho capito niente ti clicchi su che e ti va alla costazione di b e e e e e e vabbè adesso mi spieghi meglio dopo oddio ma mi hai fregato la spada te no ma hai fregato la spada eccola no ma hai fregato la spada no ma hai fregato la spada no ma hai fregato la spada eccola no ma ecco la spada se non si è fregata c'era praticamente ti faccio vedere c'era un mio amico sai cosa ha fatto e andava in giro così un mio amico si con i pantaloni così ti giuro andava in giro così e con i pantaloni in cuoio ti giuro va bene questo sarà e e perfino alla skin da prete eh vabbè questa sarà l'ultima battaglia e poi ci lasceremo attenzione 3 2 1 la gata finale via ah danno le micchia arrabbia eh eh un attimo no sono morta anch'io ok con questa morte ci vediamo al prossimo episodio bella raga quando verrai vecchio che ce l'avrai da guarda quando verrai vecchio che ce l'avrai da guarda